Come vedi l'Europa? Hai seguito la Juve, l'hai vista, torna in Champions League, ti ha fatto piacere? Sì, lo vedo che sta girando bene, sono contento. Solo una cosa su Del Piero, tu lo conosci bene, sta facendo una stagione straordinaria, ti sembra strano che lui e Trezeguet magari non ci saranno agli europei? Beh, sempre comunque quando uno fa dei gol, come ha fatto ultimamente tre gol, è normale che anche lui è lo strano, che non va, però quello poi è l'allenatore che sceglie, è così. Comunque lui, passano gli anni ma sta facendo ancora vedere grandi cose. Per lui.